Ben ritrovati amici di Televalassina. Qual è Don Donato il primo passo per essere credente, per essere cristiano? È incontrare il Signore Gesù, è come lo suo incontra, o perché si è sentito parlare, o perché ci hanno parlato di lui, o perché abbiamo letto un libro, magari visto un film. Questa è la prima cosa, cioè interessarsi di Gesù, come appunto nel Vangelo di Giovanni, quando i primi apostoli dicono, maestro dove abiti? Dice, venite e vedete. Bisogna andare da Gesù, incontrare Gesù e vedere, non dice venite a conoscere, venite a vedere. Poi si fermarono presso di lui, si approfondisce la conoscenza che porta, può portare appunto dopo a diventare davvero dei cristiani. Tutti possono ricevere il battesimo? Tutti quelli che lo scelgono, lo accolgono liberamente, ecco perché non può essere imposto, e tutti coloro che vogliono lasciare la vita di prima, vogliono convertirsi a Gesù Cristo, vogliono dire Gesù è davvero il mio unico salvatore. Che cosa deve fare un fedele prima di ricevere il santo battesimo? Deve conoscere la fede, il cammino che appunto di catecumenato, cioè di preparazione al battesimo, ecco prevedeva proprio questa conoscenza. Nei primi secoli della Chiesa il vescovo, o chi per lui, insegnava ai futuri nuovi cristiani, ai catecumeni, proprio questa verità di fede, questo modo di vivere, che era diverso dagli altri, non perché mangiavano o bevevano in modo diverso, ma perché guardavano il mondo, la vita, con occhi nuovi, gli occhi del Signore. Appunto, chi sono i catecumeni? Erano quelli che ufficialmente scrivevano il loro nome nel registro del catecumenato, facevano un cammino ufficiale con la Chiesa e, di solito, nella notte di Pasqua, la notte in cui ricordiamo la Ressurrezione di Gesù, ricevevano i sacramenti dell'iniziazione cristiana, il battesimo, che è il primo dei sacramenti, la confermazione e la comunione. Quali gli effetti del battesimo sul neocristiano? Innanzitutto il battesimo toglie il peccato originale. Cos'è il peccato originale? Ecco qui potremmo parlare per anni e anni, poi magari non riusciamo ancora a convincerci o autoconvincerci o a capire. Ecco, è un esempio, cioè fa parte della nostra natura. Noi come esseri umani siamo peccatori. Ecco, tutti abbiamo normalmente due occhi, un naso, una bocca, due orecchie, cioè fa parte proprio dell'essere uomini. C'è la nostra inclinazione al male. È il fatto che purtroppo noi siamo segnati da questa attrattiva al male. Ecco, il Signore con il battesimo ci toglie questo peccato originale e ci dà la forza di subire il peccato, di vincere il peccato, di combattere contro il peccato. Poi ci rende santi, appunto, subito, perché la santità non è qualcosa che si conquista con i nostri meriti, con la vita o con gli anni, ma è un dono che Dio ci ha fatto il giorno del battesimo. Siamo stati resi santi e immacolati, proprio come la Vergine Maria, quando lei invece, prima della sua concepimento, era già stata creata e immacolata. Noi col battesimo diventiamo santi e immacolati ed entriamo a far parte della Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo, cioè proprio ufficialmente, veramente, siamo parte del corpo di Gesù Cristo, siamo sue membra e come tali dovremmo comportarci durante gli anni della nostra vita terrena. Perché il battesimo viene dato agli neonati, subito o qualche mese dopo la nascita? Questa è una pratica che è entrata tardi nella Chiesa, perché, come abbiamo detto, il battesimo lo si può dare solo a chi lo chiede. Un bambino non chiederà mai il battesimo. Tanti oggi dicono, io aspetto che mio figlio sia grande per poi battezzarlo. Però a quel punto qui uno dice, beh, ma perché tu gli dai da mangiare? Perché lo vesti? Perché lo proteggi dal caldo? Aspetta che sia lui a chiedertelo. Ecco, tutte queste domande ci portano a dire che il battesimo si può dare anche ai bambini, perché come un genitore si preoccupa della vita mortale, la vita quotidiana, la vita umana del figlio, così ha diritto di preoccuparsi anche della vita eterna, e quindi dell'anima. E allora come si prende cura del corpo? Con il battesimo si prende cura anche dell'anima. Ecco perché nella Chiesa è entrato il pedobattesimo, cioè il battesimo dei bambini. A chi riceve il battesimo vengono perdonati tutti i peccati commessi durante la sua vita fino al momento del battesimo? Quando uno riceve il battesimo non deve prima confessarsi in età adulta, ovviamente, perché il battesimo perdona tutti i peccati. Ecco perché nella Chiesa Primitiva molti aspettavano a ricevere il battesimo. Sant'Ambrogio stesso era un catecumeno, non era ancora battezzato, perché il battesimo era rimandato agli ultimi anni di vita. Primo perché la penitenza in caso di peccato era seria, ecco, non era come magari le nostre che andavano a confessarsi, era finita lì. Era una penitenza faticosa. Addirittura i pubblici peccatori durante i 40 giorni della Quaresima dovevano fare penitenza, dovevano fare un cammino di conversione. E poi perché il battesimo ti impegnava davvero, ti costringeva a essere un cristiano. Ecco, quindi era una presa di posizione davanti al mondo e alla società che magari oggi non vediamo più. E quindi il battesimo era rimandato. Ma chi riceveva il battesimo era purificato a tutti i peccati. Il peccato originale e i peccati attuali. Quindi Donato non doveva più confessarsi. No, non doveva confessarsi prima. Ecco, prima del peccato non doveva confessarsi. Ma dopo il battesimo era tenuto, ogni volta che, nei secoli poi questa cosa ha preso piede, insomma ha cambiato anche le modalità, ma dopo il battesimo, nel corso della sua vita terrena, il battezzato doveva confessarsi, doveva confessare i peccati commessi dopo il battesimo. Senza battesimo non si possono ricevere gli altri sacramenti? No, perché il battesimo è la porta che ci introduce appunto nella fede cristiana. Il battesimo è necessario per ricevere tutti gli altri sacramenti, proprio perché ci introduce nella comunità grande che è la Chiesa. Grazie, alla prossima. Grazie. 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 Grazie.